Sì, sono Priscilla Fabrio, 25 anni e mi sono appena laureata in filosofia dell'informazione e curriculum linguaggi della rete. Mi sono laureata a Urbino in quanto rappresenta un tipo di filosofia molto particolare nel panorama italiano, un tipo di filosofia applicata appunto alle scienze, sicuramente di maggior fruizione all'interno del mondo del lavoro. In particolare io venendo da una triennale lettera antica l'ho scelta proprio per ampliare le mie conoscenze e per essere più al passo con i tempi, che penso che sia appunto molto più spendibile. Cosa dire, Urbino è bellissima, quindi consiglio ad ogni studente di andarci a studiare perché poi la formazione è unica nel panorama filosofico e assolutamente eccellente perché i professori consigliano appunto una formazione esemplare assieme alla disponibilità che hanno, che sicuramente aiuta il percorso dello studente per avviarsi al mondo del lavoro.